Buongiorno e benvenuti in questa nuova diretta, io sono Andrea Maurizio Gelardoni e oggi voglio comunicarti, voglio parlare con te del fatto che sono davvero contento delle scelte che ho fatto anni fa e soprattutto sono davvero felice di poter aiutare migliaia ormai di persone a capire che la vita è una grande opportunità e che se ci mettiamo in testa che basta seguire semplici strategie possiamo ottenere risultati sopra la media, abbondantemente sopra la media, adesso mentre ti sto parlando sono qua a Torino, ieri sera abbiamo fatto una serata speciale, in realtà sono tre serie che facciamo delle serate molto speciali per il tour di rendimento etico dove porto la mia esperienza di vita, il mio modo di pensare alla vita, ai soldi, alle case, al mercato e ricevo decine di messaggi i giorni seguenti pieni di ringraziamenti e credo che ringraziare sia una delle cose più forti, cioè essere grati sia una delle cose più importanti della vita e io sono grato alle persone che mi ringraziano alla vita, alle scelte che ho fatto, a mia moglie, insomma sono grato veramente a tutto, a tutto quello che mi succede in questi giorni e questa diretta è per dirti che come spiego durante queste serate, a volte basta poco, cioè molto spesso per essere felice non serve avere la Ferrari o cose strane o cose assurde, ma basta contribuire, contribuire agli altri, guarda mi metto in macchina perché almeno c'è meno cassino, aspetta un attimo, mi metto qua, così almeno c'è meno rumore e possiamo parlare meglio, dovresti sentirmi meglio, aspetta che mi regolo, questo, facciamolo diventare il nostro, oh vedi, tac, facciamolo diventare il nostro cavalletto, il volante. E dicevo che sono veramente contento perché in questi anni la mia vita è veramente, sto portando questo messaggio alle persone, è diventata per me ormai una missione portare questo messaggio, qual è il messaggio? Il messaggio è che se hai le giuste strategie, cioè se capisci come funziona veramente il mondo, non in modo astratto, in modo inconcludente, ma se riesci a capire come si fa a guadagnare un po' più di soldini, ma non per comprarti la Ferrari stavo dicendo prima o per fare chissà che cosa, ma per riuscire ad avere il tuo tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, avere il tuo tempo libero, ecco se riesci a mettere in ordine nella tua vita il tempo per raggiungere la tua libertà di tempo, ecco che la tua vita diventa straordinaria, insomma. Io purtroppo tutte le volte che faccio una diretta ultimamente non riesco a vedere le domande, però magari adesso voi se le avete fatemene qua sotto, poi dopo arriverà Lucia fra un po' che è andata a fare un regalino per la nuova arrivata in famiglia Gilardoni, non mia figlia, è la figlia di mio fratello. E vi rispondo. E dicevo, adesso per esempio, perché sono grato alla vita? Perché siamo appena usciti dalla banca, dalla Popolare di Sondrio, qua a Torino, dove abbiamo fatto i circolari che ci permetteranno di chiudere definitivamente una posizione di una famiglia che ha avuto un gravissimo problema con la casa all'asta, non solo la casa all'asta ma anche un altro grave problema che nelle prossime settimane, se potrò, se mi autorizzeranno, ti racconterò nel dettaglio. E eravamo lì io e Lucia da solo in banca ed ero commosso in qualche modo di vedere una somma così importante, perché parliamo di 280 mila euro, raccolti da centinaia di persone che hanno contribuito a rendere questa opportunità immobiliare, questa opportunità di salvare una famiglia reale. E non è normale. Anni fa mi ricordo quando ho iniziato a fare questo business per poter concludere un'operazione, trovare persone che credevano in quell'operazione, che credevano in noi era sempre più complesso e complicato. Invece oggi, grazie a questi video, grazie alle nuove, alle innovazioni tecnologiche, grazie al rendimento etico, insomma grazie a tutto quello che facciamo tutti i giorni. Abbiamo centinaia, letteralmente migliaia di persone che ci supportano e riusciamo così ad aiutare tante famiglie. Quindi sono grato alla vita, questo era il messaggio di questa diretta. Sono grato a tutti voi che mi seguite, sono grato a chi viene a vedermi al tour, a chi verrà a Roma, sono grato a tutti i ragazzi che sono iscritti al club, sono grato a tutti gli investitori, a tutti quelli che pensano forse un domani di investire anche solo 500 euro, che comunque sono soldi importanti per chi, come spiego durante i miei seminari, li va a guadagnare con il proprio tempo. Quindi grazie, questo era un po' il messaggio di questa diretta. Grazie, grazie, grazie di cuore perché non è scontato, non è normale quello che sta accadendo e tutti i giorni quando mi sveglio penso a come fare per migliorarmi, a migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi, come fare a mantenere questo livello di risultati che sono altissimi, sono per me impressionanti, ok? Quindi grazie, grazie, grazie di cuore. E adesso vediamo allora, uno degli argomenti che trattiamo durante la serata, innanzitutto siete 50 senza preavviso così con un click, grazie, come fare un seminario insomma, veramente grazie, grazie. Dicevo, una delle cose che parlo, di cui parlo durante il seminario, magari non sei venuto e magari ti faccio questo ragionamento, visto che siamo qua e aspettiamo mia moglie. Sono le tre entrate che dobbiamo costruirci per avere una vita libera. Ascoltami bene, una vita libera. Quando ho iniziato la mia carriera di lavoratore, come la maggior parte degli italiani, avevo un lavoro dove io scambiavo il mio tempo per avere il denaro. Quindi andavo a lavorare, 8, 9, 10, 12 ore e mi davano uno stipendio. Poi lascio perdere che io lavoravo per mio padre, fortunatissimo ad avere questa opportunità, però ero comunque un dipendente di mio padre e mi davano uno stipendio in base alle ore che lavoravo. Normale come giusto che sia. Quando inizi la tua carriera lavorativa? Questo è giusto ed è normale che sia così. La cosa che dovremmo capire, quello che spiego durante il tour, è che questo lavoro almeno ti deve appassionare, sei d'accordo? Cioè deve piacerti. Purtroppo a me nel mio caso fare il cameriere era un lavoro che all'inizio mi piaceva perché comunque mi gratificava il fatto di prendere uno stipendio, poi in realtà mi sono reso conto che non era il lavoro che mi piaceva perché mi toglieva troppe possibilità, troppo tempo. E quindi ho incominciato a ricercare, a studiare, a capire cosa avrei potuto fare nella mia vita per riuscire ad avere la cosa più importante per me, che era la libertà. La libertà di scegliere cosa fare tutti i giorni, quindi di fare quello che volevo fare, non quello che dovevo fare. La libertà di poter decidere quale lavoro fare, in che viaggio andare, quale cosa comprare o non comprare. La libertà, la libertà di stare con i miei figli, la libertà di poter stare con mia moglie, la libertà di poter viaggiare. Ecco, volevo quello e quel lavoro purtroppo mi toglieva quasi tutta la libertà e soprattutto nei momenti più belli della mia vita. Quindi ho capito che quel lavoro, il lavoro da entrata, diciamo, scambio tempo per denaro, è una cosa che dobbiamo avere tutti, per l'amor di Dio, ma almeno deve appassionarci. Ed è per questo che molte persone dicono, trova il lavoro che ti piace, che ti appassiona e non lavorerai mai neanche un giorno della tua vita. Oggi l'ho trovato che è fare il formatore, comprare e vendere case, perché sono cose che mi piacciono e non mi sembra quasi nemmeno di lavorare, perché a confronto di farmi 12 ore avanti e indietro tra le tavole e la cucina o lavare i piatti o fare cose che non mi piacevano, questo per me mi sembra quasi un gioco, un divertimento. Io ho capito che per diventare veramente liberi bisogna avere un lavoro che ti appassiona, avere delle entrate impattanti durante l'anno, cioè generare, imparare a fare qualcosa che mi permetteva, dovevo imparare a fare qualcosa che mi permetteva di avere delle entrate importanti nella mia vita. E questa cosa, quella di avere delle entrate importanti nella mia vita, l'ho provato a fare in vari ambiti, in vari settori. Nel network marketing, in business che mi hanno spiegato ma non avevo capito, ho provato a iniziare a studiare il trading, parlo di 15 anni fa. Poi ho capito che l'unica cosa che mi sembrava pratica e concreta e che vedo in giro ovunque, che sono le case, era comprare una casa a fortissimo sconto e rivenderla e quello poteva generare delle entrate impattanti. Durante il corso poi vado in profondità, spiego bene che cosa ho fatto e come ho pensato i primi periodi, che è la cosa più importante per chi vuole iniziare. Insomma, a un certo punto ho imparato e ho fatto questa cosa, cioè ho comprato delle case, mi ricordo la prima casa l'ho comprata con i soldi di un amico, anzi con i soldi della banca di un amico, l'ho comprata a sconto e avevamo guadagnato sia io che il mio amico circa 30.000 euro, che era una cosa incredibile per me a quell'epoca, era una botta di vita, diciamo così. E quindi avevo capito che avevo un'entrata da lavoro, che era facevo il cameriere, avevo generato delle entrate impattanti, un'entrata extra. E queste due cose hanno incominciato a coesistere insieme fino a un certo punto, fino a quando questa entrata impattante non ha superato abbondantemente il lavoro, l'entrata dal lavoro a tempo. A quel punto ho smesso di fare un lavoro che non mi appassionava, che non mi appassionava come era appunto quello del cameriere e ho iniziato a, all'inizio c'è stato stato un periodo dove non facevo il formatore, ma poi per una serie di coincidenze ho iniziato a fare questa attività e siccome funziona, mi viene, non dico facile perché facile non è mai niente, ma mi viene naturale, naturale. Se mi conoscerai dal vivo vedrai che sono molto spontaneo, ok? Non c'è niente di costruito. Tutto quello che spiego e insegno è fatto dal cuore, è fatto dalla verità, da quello che faccio, ok? Da quello che ho sempre fatto. E questi due lavori, quando a un certo punto le entrate di là hanno superato, ho smesso di fare il cameriere e ho capito che avevo generato all'inizio due entrate che erano quelle che mi avevano fatto vivere molto bene. A un certo punto ho iniziato a implementare altre entrate che mi appassionavano come la costruzione di aziende, quindi sono diventato un imprenditore, la costruzione di SRL che compravano e vendevano immobili in modo importante, la costruzione di aziende di formazione, la costruzione di aziende di affiliazione, insomma abbiamo creato una ruota, un cerchio, un ecosistema di aziende e grazie al fatto che avevo queste entrate impattanti, queste aziende sono nate sempre con lo scopo non di creare ricchezza per me, ascolta bene, perché questa fa veramente la differenza, ma con lo scopo di aiutare qualcuno. Cioè le aziende che io creo hanno lo scopo di aiutare sempre qualcun altro. La conseguenza è che ci deve essere un guadagno. Se le apri perché vuoi guadagnare, credo, e non l'ho mai fatto e quindi non lo so, ma guardando in giro tante persone che chiudono e non riescono a lanciare le proprie idee, se le apri perché credi di crearti un'opportunità, sono convinto che non riesci poi a portare a termine questi business in modo veramente profittevoli. Come per esempio il rendimento etico, l'abbiamo aperto perché la nostra missione era quella di aiutare tre persone, tre figure. Aiutare le persone che perdono la casa all'asta, che mi sembrava la cosa, la nostra missione anche della formazione. Ci sono più di 300 mila persone oggi in Italia che stanno perdendo la casa quest'anno in asta e grazie al rendimento etico migliaia di persone possono investire in queste opportunità e aiutare chi? Gli operatori. Quindi ho aperto un rendimento etico per aiutare queste famiglie, per aiutare gli operatori che vanno in giro, incontrano queste persone e non riescono magari poi a trovare la liquidità per comprare la casa azzerando gli debiti. Quindi il rendimento etico aiuta le persone che stanno perdendo la casa, gli operatori che stanno operando in questo campo e gli investitori perché la terza entrata che dobbiamo crearci, ti ricordo l'entrata da lavoro, l'entrata da impattante, la terza entrata a cui tutti dobbiamo tendere è l'entrata da investimento, cioè tutti dobbiamo diventare capaci di mandare il denaro a lavorare al nostro posto. Magari adesso mi stai guardando e dici ma Andrea io non ho i soldi, come faccio a mandare il denaro a lavorare al mio posto? A parte che puoi iniziare anche con solo 500 euro, ma devi imparare ad investire il tuo denaro perché è l'unica cosa veramente sostenibile che ci sarà in futuro. Il rendimento etico, il crowdfunding immobiliare con rendimento etico ti dà una consapevolezza, cioè ti fa capire perché se metti i tuoi soldini in quell'opportunità è molto probabile che genererai un profitto e non solo ti dice che è molto probabile perché se poi vieni ai nostri seminari capirai anche tu che abbiamo comprato, che compriamo degli immobili a un prezzo così basso che per forza c'è un margine quando lo rivenderemo e questa cosa ti aiuterà ad imparare a diventare un investitore. Infatti noi diciamo sempre devi imparare a diventare un investitore anche partendo da piccoli capitali perché poi quando ne avrai capitali importanti a quel punto, quando avrai capitali importanti, si sarai già allenato magari con 500, 1000 euro e quando avrai 100.000 generati da reentrati impattanti, sbam, ecco che puoi investire con molta più consapevolezza, con molta più serenità e avere quella cosa più importante che ti dicevo prima che è la libertà perché tutto questo non è fatto per diventare ricchi e fare chissà quali peripezie, questo qua è fatto per essere liberi, per smettere di avere una vita di rinunce, per smettere di dover decidere se curarsi o mangiare, se viaggiare o non lo so riesco a spiegarmi, basta la vita, il mondo è bellissimo, il mondo è bello e siamo in un'epoca dove con relativamente pochi soldi possiamo fare veramente tantissime cose, non è più come gli anni 50, gli anni 30 dove non esistevano le possibilità, oggi ci sono le possibilità e dobbiamo metterci nelle condizioni di poterle cogliere, quindi non è ancora arrivata mia moglie, adesso andiamo a vederla, andiamo a vedere, magari vi fermo il telefono e vediamo se mi avete fatto delle domande nel frattempo, quindi che cosa volevo dirvi con questa diretta? Che la vita è una figata, pazzesca, ok? Che se scopri il modo, ho lasciato la macchina accesa, no, se scopri il modo, non si chiude, che se scopri il modo di, non si scopri, se impari a guadagnare di più avrai più tempo libero, sei d'accordo? I soldi sono uguali alla libertà, questa cosa ti permetterà di stare e di vivere una vita molto più di qualità, la mi farei fuori, allora stiamo parlando i miei mogli, aspetta, non spendere tutti i saldi però, eh? No, sta facendo i regali, i regali alle bimbe, allora, aspetta che guardiamo se avete fatto domande, se non le avete fatte, io poi vi saluto, eh? Ecco qua, scusate ma di là non le vedo, grazie, grazie, ti ricordi di me, così non mi dire, ti stimo tantissimo, sbam, sbam, non vedo di incontrarti a Roma, martedì ci vediamo a Firenze, stasera non sei a Bologna, eh? Sì, stasera sono a Bologna, ma mia moglie mi sta facendo perdere tempo, come puoi aiutarmi dopo aver perso la mia casa e la banca se l'hai presa a uscire da questo incubo per ricominciare a vivere tranquilla con tutta la famiglia? Eh, se l'hai già persa la casa, eh, ci sono delle soluzioni, però scrivi a Credito Italia.it, vai sul sito www.creditoitalia.it e ti facciamo parlare con chi può analizzare la tua pratica e vedere se può aiutarti ad uscire da quel problema. Ok ragazzi, non ci sono tante domande, bene, 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 io vi ringrazio perché mi seguite, perché mi supportate, perché parlate di me in giro, sbam, abbiamo un'operazione bomba al 15 per cento sul rendimento etico e ne stanno arrivando altre nei prossimi giorni, quindi ricarica il tuo conto e tieniti pronto. Un abbraccio da Andrea Maurizio Gilardone. Ciao!